all stars con tiago e per prima cosa miglioriamo penny fatto possiamo fare sopravvivenza abbiamo già due casse due energie tiago qui c'è un dynamite è un eugenio forse li potremmo uccidere no mi sta uccidendo tiago aiuto aiuto c'ho poca vita no riesco a colpirlo no non ci credo così poca vita che uso dove piazzo la cura lo piazzo di qua e vabbè questo è troppo potente scappiamo no c'è avuto la cura c'è Tom c'è la cua no ho ucciso motis con 7 energie c'è quello con 12 tiago scappa uccidilo uccidilo no coi coi no no aiuto no 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 aspetta ecco troppo tardi no dal cespulio terzi ma noi non abbiamo perso coppia io ne ho guadagnato una aspetta questo qui è bravo allora facciamo che facciamo eh si ma guarda dobbiamo proprio vincere iniziamo se prendiamo un po' questo qua non so cosa dire ok forse lo diciamo aiuto sto laggando e il primo c'è l'abilità stellare io sono appena al livello 2 ma è vero perché ho visto il fuoco aspetta come fosse perché c'è l'abilità stellare si vede sopra l'abbiamo presa l'ultimo no io sono al livello 2 ecco sono cresciato no non si chiede che ha l'abilità stellare si si vede sotto sotto ai piedi la sua abilità stellare che dà soltanto fuoco double kill uccisi a vicenda ecco ecco da fuoco mi aiuto c'ho poca vita uccini la cura troppo tardi nel frattempo davide ha segnato aiuto sto per morire no per troppo danno ti auguro 1 2 3 ha segnato ho vinto una cosa strana lui il tizio era lì a livello 20 con l'abilità stellare io ho appena a livello 2 abbiamo vinto ora facciamo di nuovo rapina facciamo un'altra di queste qua va bene perché sono facile sono facile però mi fa che dormi sentire mi piace dormire no se la piando bravo con 200 di vita cura no ma quanti aiuto no tiago no no stavo per fare l'altro gol però stiamo vincendo no sei morto la lancio lontano basta rompermi sempre la cura aiuto aiuto ecco sono morto vabbè con la ultima chi feng no ho sbagliato no l'ultimo mando via la palla guarda dove si è lanciato il primo ops boom forse segno no pensavo di segnare il gol poi insomma anche girare ma ti gira gira vabbè io li colpisco così diventa uno start player no alla fine sei tu fai più danno tu abbiamo una cassa niente eh non so se ci puoi trovare una casa anche tu ne hai più una mi mancano 20 persone che facciamo ora facciamo una volta la pina ce la perdiamo vabbè non fa niente vabbè dai portiamo io vado a destra no a sinistra no a sinistra no aiuto vai tiago bull è troppo potente 40% bull e op per lui sarebbero solamente 250 coppie dovrebbero metterlo piuttosto del cammino dei trefei almeno no c'è no c'è dynamite ci ha lanciato la ultima lo uccido io boom però c'è poco avete aiuto no mi ha cecchinato ci ho visto no aiuto mi ha preso una volta no 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 troppo tardi va dolce usa lo sapore no no non l'ho colpita però ho ucciso piper si abbiamo vinto no io allora ci vediamo nel prossimo video iscrivetevi al canale e ciao